Inutile pensarci, signori, assolutamente non c'è la fine dei colpi di scena al Grande Fratello Vip, o almeno per un altro mese ce ne saranno ancora. Assolutamente protagonisti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, capiamo un attimino cosa hanno combinato stavolta. Nella puntata in diretta, nell'ultima in diretta che c'è stata con Signorini, lei praticamente è scoppiata a piangere, e soltanto l'intervento pronto dell'amica Ilenia l'ha fatta un po' tranquillizzare. Adesso è emersa però una dichiarazione inaspettata del volto di forum di Barbara Parombelli che potrebbe rappresentare una nuova svolta. Nessuno, però, si attendeva a questa ulteriore novità, ma nella casa più spiata d'Italia, tutto si sa, può succedere all'improvviso sulle Alpi del Monviso e le prossime ore, signori, saranno veramente decisive. Intanto, prima di dirvi tutto sul GFVIP7 e questa notizia su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, dobbiamo riferirvi di un'aggressione subita da Nicole Murgia dopo l'eliminazione. Nicole Murgia è stata aggredita nel parcheggio del GFVIP7 presa a parolacce. Le donne li si hanno incontrato la Murgia e le hanno urlato zocca asteriscola. Volevo tranquillizzarla, anche se hanno cercato di affossarla, le uniche che si sono affossate sono coloro che hanno fatto le pazze in prima serata per una ship di mer. Ad aver fatto cambiare idea definitivamente sul concorrente del GFVIP7, Edoardo Donnamaria, è stato qualcosa che Antonella Fiordelisi ha visto durante l'appuntamento tv. Ovvero la vicinanza di lui a Nicole Murgia, con un gesto privato che l'ha fatta indispettire, visto che lui avrebbe toccato il seno di quest'ultima. Ma una volta terminata la diretta, Donnamaria si è sfogato con altri coinquilini e dalla sua bocca sono uscite delle parole che hanno lasciato tutti senza parole. E i fan dei Donnalisi continuano a sperare. Edoardo Donnamaria non ha perso del tutto le speranze, stando a quanto riportato dal sito Blasting News, quindi con Antonella Fiordelisi potrebbe non essere finito qui il loro legame. La colpa è mia, mi dispiace per voi e per lei che ha dovuto vedere quelle cose anche se non c'era malizia. A prescindere da quello che succede, voglio uscire da qui con lei. Non può finire tutto per una puntata di Mare come questa. Non resta che aspettare i prossimi giorni per comprendere se ci saranno spiragli nella loro relazione. Parlando di altri concorrenti, Davide Donadei ha mandato a quel paese l'ex fidanzata Chiara Rabbi. Quest'ultima aveva scritto su Twitter, Benvenuta nel club, Anto. Fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l'argomento. E questo è tutto per questo aggiornamento. Vi ringrazio per la visione e l'ascolto. Vi aspetto su Pausa Caffè per i prossimi video.